Si trincera dietro un secco no comment ed è comprensibile Luca Scortecci, vittima due giorni fa di un'efferata rapina all'interno della propria villa e località rondine alle porte della città di Arezzo. Scortecci, orafo e titolare di silo industrise della tenuta alla pineta che si trova a Castiglionfibocchi, ha ancora negli occhi e nella mente quelle ore terribili. Erano da poco passate le 19.30 quando tre persone dall'accento straniero si sono introdotte all'interno dell'abitazione. Con lui c'erano moglie e figlio adolescente. I ladri hanno puntato la pistola alla testa di uno dei componenti della famiglia e si sono fatti indicare dove erano soldi e oggetti preziosi. Hanno arraffato tutto il contenuto della cassaforte, gioielli, monili, orologi in oro, contanti, valore circa 10.000 euro. Per evitare che lanciassero subito l'allarme hanno legato i tre poveretti e sono scappati. Della vicenda adesso si stanno occupando i carabinieri di Arezzo. Un caso che getta ancora di più nel panico la popolazione che risiede nei luoghi isolati o di campagna, mire più facili per i malviventi che mai, come in questi ultimi mesi, stanno mettendo in ginocchio famiglie e commercianti con continui colpi e irruzioni.